In Atalanta Cesena i più impegnati sono stati i centrocampisti, squadre bene impostate ma non in vena di tentare la conclusione a rete. Di tiri nello specchio delle porte se ne sono visti pochi. A rendersi maggiormente pericolosa comunque è stata l'Atalanta. Qui un gol di De Bernardi annullato dall'arbitro Milan al 33esimo del primo tempo. Il pareggio odierno offre ai bergamaschi la possibilità di prendere fiato e di riorganizzarsi dopo la sostituzione improvvisa e clamorosa di Bolchi con Corsini. Ai Cesenati di Bagnoli consente di proseguire la marcia nella zona alta della classifica.